Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri. E si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuove. Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo secondo, dal versetto diciotto e seguenti, leggiamo Gesù disse loro Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Una festa di nozze è piena di gioia e di allegria. Gesù si presenta come lo sposo. E per questo la sua venuta è segno non di tristezza e di digiuno, ma di allegria. I suoi discepoli, avendo lui, non possono essere nella tristezza. Gesù, presentandosi come lo sposo, spiega la sua presenza in terra come il sopraggiungere del tempo della salvezza, in cui si adempie la beatificante promessa di Dio. In questo tempo di nozze, non è immaginabile che gli invitati facciano digiuno. I giusti digiunano perché ignorano l'amore gratuito di Dio e mangia con i peccatori e non con i meritevoli. Tutti intenti a meritare l'amore di Dio con le loro opere, non si accorgono che l'amore meritato non è né gratuito né amore. Se ne escludono proprio con il loro sforzo per conquistarlo. In Gesù si celebrano le nozze di Dio con l'umanità. Lui si è unito a noi per unirci a sé. Si è fatto come noi per farci come Lui. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Ci ricorda Sant'Ireneo. La presenza sulla terra del Dio fatto carne è segno di festa. La certezza di vivere in Sua compagnia dona una gioia incompatibile con il digiuno. La gioia che il Signore dona non è mai priva di ombre, ma è annuncia e primizia di quel tempo in cui tutto sarà vestito a festa. Prevalga in noi la gioia delle nozze, la gioia di essere stati redenti da uno sposo che dà tutta la sua vita per la sua chiesa sposa. Vi auguro una buona e santa giornata, buona settimana. Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.